cosa c'è che è successo ho attaccato il video ma che è bucato guarda bene qua davanti ma non mi ha attaccato ah no sì sì mi ha attaccato e fra guarda un secondo mi sembra che non mi aveva attaccato il video già un attimo fai quello che vuoi ma questa è casa è la nostra casa questa no no avevamo qualcosa di bellissimo dentro è tutto vabbè c'è là un ascio una spalla allora allora perché mamma allora o del pollo qualcuno si è bruciato ma noi magma ce l'abbiamo ma se il magma serve per il rituale non mi sa che uno ci abbasta no infatti non credo ma tu mi hai detto che hai trovato la roccia di resta giusto ah sì sì l'abbiamo trovato guarda l'ho trovato perché c'erano pure le mie ragazze hai fatto qualcosa guarda qua tu per ora non sai tanto un pezzo del mio pezzo del mio altare devi fare quello che ti dico io ma non c'era il pane dentro ma non c'era il pane tanto o poco non so giù c'erano le stack giù chi è che ha fatto sta scala non lo so forse ma se ora io corrompo e scende io non ti prego non scendere non scendere non scendo ok qua c'è ancora questo qua dentro oh giù 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 tu non venire allora ferro ferro l'ho preso io l'ho preso io per fare zucchero giù attento qua attento qua qua non c'è niente a pollo c'è ma fra io ho preso tutto un arco rotto la carne fra dobbiamo prendere la fornace perché assi la fornace la fornace la so prendendo tutto i reti qua c'erano altre torce tra i nostri letti dopo le prendiamo giù attento poco con l'anna attento qua qua io ce l'ho la lana attento quando esci che c'è lava attento quando giuseppe attento ok attento ok andiamo a dormire e cosa dov'è ora casa nostra quella diventa wow bellissima casa si lo so bellissima eh sì ma tu un letto ce l'hai ma io no eh tu rampi qua che so dormi qui va cagare io non posso vai mamma mia dormi qui qui e non ho un letto ma va che te lo prendevi io te l'avevo detto guarda nell'inventario che ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho deve avere per no non ce l'ho attento ai creeper giù 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 tu vai dentro casa te la prendo io no te la prendo io tanto di qua ma scusa lo potevamo chiudere da tanto tempo si lo so però prenditi il letto no no ti prego se ci spingerà la lava siamo dopo i gigi giù 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 usciamo 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 giù giù se ti spinge nella lava aiuto andiamo dentro andiamo dentro andiamo dentro ci sono scheletri andiamo dentro dentro andiamo dentro e c'è un enderman giù metti sto letto qua dentro mettilo che adesso dobbiamo fare il rituale mettilo mettilo qui mettilo qui dormiamo dormi ragazzi francesco è andato un secondo da qualche parte e io qua non so cosa fare per ora ragazzi nell'altro video non ho capito se c'era nell'altro video c'era soccoso che ha bruciato casa scrivetelo nei commenti perché io proprio non c'ero l'altra volta e dal video si può vedere io avevo visto che da qualche parte c'era pure lava ecco la sotto ma non c'era questa mi sa perché quando ha fatto il video francesco che è successo quel casino la io non c'ero quindi ragazzi spiegatemi cosa è successo qua ok anzi francesco me lo deve spiegare non lo so io non ho capito un cavolo francesco mi ha detto che c'è aerobrine ma non qua non c'è aerobrine ragazzi capito questa è la cosa che io qua non lo vedo vedo tutte croci lava cavalli strani ma non c'è aerobrine non capisco questo questa cosa non capisco raga e poi la dentro c'era tutto una cosa bellissima poi calza su coso no io la vedo che c'è cobblestone però solo questo è arrivato sto spiegando ai ragazzi per cosa succede perché che voglio sapere perché è successo quello tu mi era accanto mi ha raccontato che la è successo tu mi hai detto la che c'è che è successo un casino la che c'è aerobrine ma qui non ti sei guardata il video mi sono arrabbiata sì da quando è che passo qua sopra prendo fuoco no 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 ma che faccio così no no se fuoco blu giuseppe nell'altro video nell'altro video di minecraft arco ci sono passato e non mi è successo non lo so la spesa e il vostro cos'è liberato questo non è ma che cambia buono lo so ho detto lo sto posto e pazzo anche guarda qua giù c'hai del pane e si no da un po ah ma tu ne hai tantissimi guarda cosa uno nemmeno un po un po ancora 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 vabbè vai basta basta ah c'è un po l'attento qua che qua c'è lava giù tu mi hai raccontato la che c'era qualcosa attento attento che qua forse scolava lava ma la lava il coso la di lava però non fa danno quando dice che c'è anche stavo calendo guarda la cosa c'è dove la guarda dove sono le torci di retto andiamo a fare il rituale per ancora con le torci di retto non possiamo manco inizia ma dove è il rituale non so dove lo facciamo rituale ma non lo so lo possiamo tipo inizia possiamo cercare ma le messe dopo cosa perché c'è sotto il giro dove non ha veramente perché c'è sotto cosa cosa fra cos'è visto sicuramente visto la nostra galleria no no giù ho visto qualcosa ho visto delle torci di retto sicurissimo sicurissimo giuseppe questa messa al lato non la vedi dove ecco 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 dove siamo dove si va bene si va bene dove si va bene giù che cavolo di posto è provo ad aprire così li picchio da qui non so aspetta prima ci vuole no 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 ancora no ancora no ancora no giù farei a favore prima cosa ci vuole la sciglia apriamo di uno 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 io cerco allora intanto questo prima aia giù allontanati che questo quante freccia ma quanti quanti a spostati io ne ho tre frecce giù e io l'ho di altre due giù il perpero così dovrebbe uccidere quanti ne ho e non ne ho più ok ok quando l'ho questo se non è stupido dovrebbe entrare qui dovrebbe venire da noi e fra abbiamo finito eh io non ne ho più e io nemmeno siamo senza freccia io metto le torci ormai mi sono abituato no no io no perché c'erano dal giù è troppo strano metti un po di torci giù che cosa vi fammi andare avanti a me a torci metti lo scudo no non posso mettere le frecce non posso prendere le frecce ho preso io giuseppe ti squarto ti squarto veramente allora io l'ho visto c'è uno spawn c'è uno spawn c'è uno spawn fratto io combatto e aia giù 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 io metto le torci giù fra io li rompo cosa c'è là perché hanno così tanta vita si fa pro cd uccidi ok ma ti si non ne dovrebbero si sta scaricando il cosa lo sono un intervento mettiamo un po di lui gesto cosa c'è ma ma fammi vedere voglio vedere io ho sì il man mano ecco come si faceva il rituale e si ma qua ma poi c'è come c'è ma c'è quel si deve fare qualcosa qua no qua non c'è niente ma la sua scusa quello si è potuto rompere perché questo guarda lo clicco si sente pure quindi non posso barare giù perché poi per un attimo a te te l'ha fatto ecco di nuovo hai visto ecco a me pure ogni tanto lo fa giù c'è qualche leva aspetta sì infatti potrebbe essere che c'è una leva aspetta io mi butto qua sotto niente non c'è niente giù però c'è qualcosa non c'è polvere di creeper non so perché l'ha buttato si deve fare in qualche modo con ha fatto giù tu fa giù giù te lo fa perché col piccolino non so ma ti si è fermato l'hai lasciato tu no mi si è fermato guarda ora non lo fa più ora non lo fa c'è qualche blocco che c'è una leva invisibile non so forse una di queste torci una leva e si ma sto fuori no non credo io provo da mancare giù io mi sto arrendendo come si rompe però le torci le fa ammettere forse dobbiamo mettere tante torci e va bene va giù grazie questo materiale cos'è cos'è hai un legno del nether questo nether però questo me lo fa spaccare vedi le cose che ho preso da la me le fa spaccare perché fra con la sfada mi fa fare questo io lo tengo ammaccato ma mi fa fare solo questo così o è un bug di ford netto o è un bug di minecraft con questa pure col piccone pure lo giù io riesco viene pure tu questo mi sa che questo è so sfida come quello che mi racconta potrebbe sì sì giù ma quanto ne ha di me una stack ma non ci vuole una stack per farlo qualcosa se questo dava pure fuoco era molto strano sì molto molto perché quando ridi a volte fai risate strane se volevi fare la morte come stavo morendo io prima no in un altro video non voglio morirci eh sì ma c'è tra un po' ci morivi male con mamma non ci sono morta è strano non ho mai fatto così giù ma secondo te appena facciamo tutto il rituale cosa succede? non lo so non lo so e lo prende a faccia secondo te? non lo so e se a faccia? a faccia all'improvviso dopo qualche tempo non lo so ma io so che devo cucinare eh secondo te come a faccia? oh non lo so sì vabbè io chiudo la porta io dormo qui ma perché ti ha messo qua tutto in complesso? io l'ho messo perché? volevo essere più assicuro ok? allora iniziamo il rituale io te ti ammaso sto morendo io te ti ammaso ho un mezzo cuore ma anche di dare attento che poi ci sono le mostre che ti ucciso fra un mezzo cuore entra dentro perché? cosa hai visto? che hai visto? e cosa ho visto? l'attacco ci attaccano attento che se ti spingono nella nave fra le villaggi c'è pure vabbè questa è una cosa normale però questa su minecraft è normale questa cosa qua non c'entra cosa ma nei villaggi ti ricordi cosa c'è? oh nel predone ma proprio sono venuti in un villaggio sì però io non lo sento no però qua c'è questo tipo ha sparato a qualcosa non so ahia lo uccido da sempre giù no mi da quella cosa la stranissima lui ehm ci uccide no ci puoi sponare altri come faccio eh sì giù me la dai a me e tu l'hai ucciso sì ma quella giù me la dai a me cosa? la balestra ah sì e io tengo questo guarda questa ce la metto è mezza rotta aspetta cosa? la balestra indistruttibilità cosa? è incantata con indistruttibilità ma è proprio rotta però è indistruttibilità meno male meno male che è indistruttibilità vabbè la posso giustare qua appena ma poi che ci sono che ci fanno tutti sti cavalli qua? non lo so ma io ho messo che io metto che abbiamo sconfitto il boss ma poi appena avremo la casa per ora mi sa che non è il momento di dedicarci alla casa oppure se lo facciamo lo facciamo off camera eh sì infatti ci creiamo una casa bellissima perché volante? sembra un vabbè basta lo dico sembra un p